Una serie di manifesti, 700 per la precisione, stampati e affissi in tutto il Salento per una campagna di sensibilizzazione e l'idea dell'associazione Lecce Vegan, che dopo aver lasciato segnali qua e là, ha rivendicato il gesto. Si tratta di 5 grafiche, stampate 700 volte e affisse in 29 comuni salentini, 27 della provincia di Lecce e 2 del Brindisino, lo stesso capoluogo e San Pancrazio Vernotico. L'associazione su Facebook spiega così l'iniziativa che ha fatto parlare di sé. Siamo tutti animali e ogni cosa che facciamo al nostro prossimo all'ambiente, la natura ce lo restituisce con gli interessi e questa pandemia ne è stata purtroppo la prova. E via con i selfie di tanti iscritti che in questi giorni hanno già visto i manifesti in giro per il Salento. In quasi tutti i comuni sono stati affissi dal 12 agosto e Lecce Vegan ha scelto i centri più grossi, oltre che quelli a maggior vocazione turistica, per poter arrivare ad ancora più persone. Lecce, Maglie, Galatina, Otranto, Ugento, Tricase, Gallipoli, Calimera e così via. Gli animali non hanno scelta, tu si, sii vegano e ancora io li lascio vivere. Queste le scritte che campeggiano adesso per tutto il Salento.